ferragosto e movida più telecamere a potenziare sicurezza agabice rinasce lo storico mississimi fondi per le scuole pioggia di finanziamenti per il mamiani a los angeles per pavarotti anche gli amici pesaresi WL ecco la campagna buon avvento 2022-2023 una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV e ben ritrovati a Rossini News il nostro telegiornale in questa edizione di venerdì 12 agosto parte da questa sera il weekend allungato di ferragosto in un lungomare di pesaro frequentatissimo in questi giorni sia da residenti che dai turisti sarate movida che si auspicano in totale sicurezza ecco perché in questi giorni c'è stato un ulteriore potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle zone più sensibili del lungomare periodo di ferie, periodo di vacanze che entrano nel momento clou del weekend lungo di ferragosto tanti pesaresi e tanti turisti affollano il lungomare giorno e notte per una movida che si vuole festosa ma disciplinata ora un deterrente in più contro movida molesta o peggio arriva dall'aumento delle telecamere installate sul litorale il comune ne ha giunte altre nelle ultime settimane prima sul lungomare Nazareo Sauro e da pochi giorni all'angolo fra Viale Fiume e Viale Trieste interventi mirati nelle zone più frequentate soprattutto nella fascia notturna è un impegno che ci eravamo presi già da qualche settimana, da qualche mese le forniture di materiale sono andate un pochino lungo però insomma in questi giorni abbiamo installato le telecamere di Razzario Sauro e Viale Trieste e Angolo Viale Fiume che sono due luoghi di assembramento di solito devono essere luoghi di divertimento e non motivo per creare confusione per questo insomma ci siamo attrezzati dotandole di video sorveglianza e speriamo che anche questo sia un deterrente utile per passare dei giorni di vacanza tranquilli l'aggiunta di telecamere risponde a un'esigenza esternata più volte da albergatori, gestori di locali e stabilimenti balneari soprattutto da quelli fra lungomare Nazareo Sauro e piazzale D'Annunzio già riqualificato dal maxicasco di Valentino Rossi e ora maggiormente monitorato da controlli tant'è che la movida molesta d'inizio stagione si è poi rivelata ben più disciplinata sono state un paio di fine settimane un po' troppo vivaci però c'è stato un grande lavoro da parte di tutti, delle forze dell'ordine che sono coordinate insieme e hanno gestito la situazione al meglio devo dire che fino ad oggi poi facendo il dovuto scongiuro insomma la città sta vivendo insomma quest'estate 2022 in maniera molto tranquilla, serena soprattutto educata da parte di tutti altre telecamere, peraltro genere di sicurezza, sono arrivate al parco Miralfiore a supporto delle forze dell'ordine nell'area più sensibile dal punto di vista della microcriminalità sono quattro punti di controllo, ulteriori quattro punti di controllo per presidiare la zona dell'ingresso del parco è un atto dovuto rispetto al tema della sicurezza al quale teniamo tutto in maniera particolare e da lungomare di Pesaro passiamo a quello di Gabice che si arricchisce davvero di un gioiello ritrovato quello dello storico Mississippi Gabice Mare ha di nuovo il suo simbolo lo storico locale Mississippi, iconica palafitta sul mare è di nuovo patrimonio di Gabice nonché suggestivo biglietto da visita delle marche dalla sua punta costiera settentrionale nella serata di giovedì si è portato a compimento un ampio progetto di riqualificazione di quello che a partire dagli anni 60 fu un vero e proprio gioiello riconoscibile e unico nel suo genere sia per caratteristiche strutturali sia per una vista unica su mare lungomare e San Bartolo il progetto di rivalorizzazione è stato portato avanti da comune e regione motivate a ritrovare quel gioiello questo è un momento storico per Gabice Mare perché rinasce un luogo simbolo, un luogo iconico per la nostra città turistica ed è la terza M che mancava il mare, il monte e il Mississippi questo deve essere poi un trampolino di lancia affinché si possa andare sempre avanti verso questa qualificazione questa caratterizzazione del nostro territorio è il luogo che unisce il mare al monte ci tenevamo in particolar modo a trasformarlo a riqualificarlo dopo anni di abbandono ci siamo riusciti, c'è stata grande partecipazione ed è un primo punto di partenza quindi ha raggiunto il risultato un obiettivo, si riparte oggi regalando alla città questo bellissimo spazio nel mare ce ne sono pochi di spazi di questo tipo da Trieste a venire in giù è già il primo monte ed è una delle prime parafitte sul mare che si incontrano per tanti chilometri di costa questo è un progetto che è iniziato nel 2018 quando l'amministrazione comunale di Gabice aveva deciso appunto di portare avanti la riqualificazione di questo bellissimo spazio come Regione Marche già dal 2018 avevamo stanziato 300 mila euro una risorsa importante che sicuramente ha dato forza ha dato anche come dire energia a questo progetto e il comune di Gabice poi ha messo il resto abbiamo fatto un'operazione decisamente importante molto impegnativa 20 mesi circa, 22 anni per fare il progetto di realizzazione un edificio in mezzo al mare quindi tante difficoltà anche proprio cantieristicamente parlando pure ci siamo riusciti credo con una qualità notevole con imprese locali molte delle queste quindi anche con la soddisfazione da parte di tutti aver contribuito ognuno per ciascuno proprio con un tassello un edificio come si diceva in EZEP quindi a consumo quasi zero un edificio che si è scaricato come peso di circa il 40% su questa piattaforma perché sono dei telai in acciaio e un solai in legno mentre prima era in cemento armato chiaramente una forma, una composizione architettonica del tutto innovativa queste grandi forme queste grandi linee queste grandi bocche che ricordano un pochino le bocche di una nave di un pesce e comunque delle forme marine un sistema anche di aiuto multimediale che ci aiuta a raccontare la storia il valore del nostro territorio quindi tutta una serie di cose che credo che possono contribuire a far sì che questo edificio riesca a vivere far vivere il turismo il territorio e tutte queste belle cose di Gabice e anche della regione credo e per quello che riguarda la riqualificazione del Mississippi di Gabice Mare questo è stato solo un assaggio del più ampio speciale di approfondimento che Rossini TV trasmetterà martedì 16 agosto alle ore 21.20 ora cambiamo argomento e parliamo di fondi per le scuole sono infatti in arrivo ben 44 milioni di euro per l'innovazione e la digitalizzazione degli istituti regionali fondi che arrivano dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del piano scuola 4.0 è prevista la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro i contributi complessivi riguardano sia le scuole primarie sia quelle secondarie alla provincia di Ancona andranno 13.600.000 euro a quella di Pesaro 10.300.000 euro per quella di Macerata quasi 10 milioni per le province di Ascoli e Fermo 10.600.000 euro l'istituto che si è giudicato il maggior numero di fondi è il liceo Mamiani di Pesaro con la cifra di ben 463.000 euro ottenuti nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo dato notizia dell'imminente spedizione delle comune di Pesaro e delle Rossini Opera Festival a Los Angeles dove il 24 di agosto verrà posta la stella di Luciano Pavarotti nella celebre Walk of Fame di Hollywood un tributo importantissimo per Pesaro che è la città adottiva del maestro che sarà in California sia con le istituzioni ma anche con alcuni degli affetti che il leggendario artista ha stretto a Pesaro rientra proprio in questa categoria un peserese che oggi abbiamo intervistato nei nostri studi il 24 di agosto Pesaro vola a Los Angeles per la posa della stella di Luciano Pavarotti nella Walk of Fame di Hollywood Pesaro come città adottiva del maestro insieme a Modena che è la città natale presenti le istituzioni ma presenti anche un po' amici affetti di chi ha conosciuto Luciano Pavarotti nella sua esperienza a Pesaro Riccardo Del Bene è uno di questi che è stato il suo infermiere personale per la fase conclusiva della vita di Pavarotti le chiedo che esperienza è stata e come è nata Allora partiamo dal fatto che sono molto onorato di partecipare a questo evento di essere presente lo faccio molto volentieri è un affetto grande che è nato da un'esperienza di lavoro che ho vissuto con il maestro qui a Pesaro in quanto comunque l'ho conosciuto negli ultimi due anni della sua vita che arrivando a Pesaro dall'intervento che fece a New York e chiese informazioni nella città di qualche infermiere e mi presentai io e da lì da subito nacque diciamo questa questa relazione lavorativa professionale come infermiere di assistenza 24 ore su 24 che andò avanti fino alla sua morte Cosa fu per lei questo rapporto cioè l'essere così a stretto contatto fisico con una leggenda Allora dire la verità è stato naturalmente è un'esperienza importantissima della mia vita che sicuramente mi ha segnato mi ha anche fatto capire e conoscere un mondo che non non ero mai venuto a conoscenza non ero mai stato a stretto contatto con personaggi di questo calibro sicuramente lui era poi l'apoteosi l'apice di professionisti nel settore musicale di artisti vari è stata un'esperienza importante impegnativa comunque perché il maestro era una persona sia esigente ma allo stesso momento una persona molto vera molto molto genuina e quindi molto legata alle famiglie agli affetti e agli amici e questo io l'ho vissuto in prima linea quindi conoscevo benissimo le sue famiglie dove mi hanno subito preso benvolere dove sono sempre stato a stretto contatto con le figlie con la Nicoletta con la nuova famiglia e nel contempo lui ha sempre voluto la presenza anche della mia famiglia quando eravamo al di fuori di Pesaro quindi spesso insomma veniva mia moglie i miei figli è stata un'esperienza importante un po' per tutta la mia famiglia che mi ha fatto conoscere insomma un personaggio veramente al di fuori di ogni aspettativa io ho vissuto insieme al maestro questo rapporto di vicinanza durante il giorno nella notte dormivo nel letto a fianco a lui c'era sempre un letto sia a Modena che a Pesaro in qualsiasi posto si andava e quindi io ero 24 ore su 24 a stretto contatto con lui mi allontanavo solamente quando entravano persone o la moglie o che dovevano magari stare in forma privata io mi allontanavo ma sapevo benissimo che dopo qualche minuto mi chiamava per lui era una sicurezza vedeva in me sicuramente una sicurezza per la sua salute per la sua igiene per tutto quindi ogni cosa che succedeva mi chiamava io ero sempre presente ho aneddoti da raccontare che infiniti mi allontanai una volta andai a Livigno con la famiglia a fare una settimana di ferie un Natale mia figlia era piccolissima non presi neanche l'autostrada che mi chiamarono subito perché non voleva far la doccia senza la mia presenza questo è un aneddoto che quella volta dovete stare al telefono per spiegargli che alla fine ero fuori non potevo tornare ma lui insisteva che doveva essere lì presente questa è una delle tante insomma era un rapporto strettissimo sì di lavoro e anche e anche altro comunque oggi hai con te anche un cimeglio uno dei vari doni che comunque l'esperienza con Luciano Pavarotti ti ha lasciato sì me lo tengo sempre molto stretto infatti una delle poche volte che esce di casa perché sinceramente è una cosa a cui tengo tantissimo è uno dei suoi fulare a cui lui teneva ne aveva tantissimi che mi regalò in una giornata che disse che questo colore stava bene con il colore della mia pelle perché venivo dal mare ero scuro un po' arrossato dice devi metterti questo me lo tengo molto stretto ed è sì un cimeglio ed è un regalo che porterò sempre con me insomma vi segnaliamo ora che c'è stato un incidente stradale sulla superstrada avvenuto nel pomeriggio di oggi fra Cantiano e Cagli i vigili del fuoco di Cagli intervenuti assieme agli uomini del comando di Pesaro hanno provveduto a chiudere la strada per diverse ore vi daremo ulteriori ragguagli nei nostri prossimi spazi di informazione cambiamo argomento e parliamo ora del Rossini Opera Festival perché torna il viaggio a Reims da domani 13 agosto fino al 15 agosto alle ore 11 al Teatro Rossini dal 2001 il ROF all'interno del suo festival giovane propone l'opera nell'interpretazione di giovani voci formatesi nell'ambito dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda sostenuta da quest'anno dalla fondazione Meuccia Severi gli allievi della 34esima edizione dell'Accademia tenutasi a luglio saranno protagonisti dello storico spettacolo ideato da Emiliano Saggio e poi sempre in tema di Roffi il 14 agosto alle 15.30 sempre al Teatro Rossini ci sarà anche il secondo dei quattro concerti lirico-sinfonici che avrà come protagoniste Giuliana Gianfaldoni e Vasilisa Berzanskaya entrambe formatesi nell'Accademia Rossiniana Vitali Aleksensnuk dirigerà l'Orchestra Sinfonica Rossini e il coro del Teatro della Fortuna sono in programma musiche della Siege de Corinth Zelmira Ermione e Tancredi ancora musica ma di altro genere quella che ci porta a Pergola dove domani 13 agosto alle 21.30 in Piazza Ginevri ci sarà il gran finale delle festival Alte Marche Altra Musica finale previsto con Giovanni Falzone e le mosche elettriche che si esibiranno in Scover Scover che è un viaggio scomposto all'interno della canzone italiana di protesta con Falzone geniale trombettista e compositore nonché uno dei protagonisti del jazz italiano europeo che vanta una lunga esperienza anche nel mondo della musica classica e che rielabora per l'occasione in chiave jazz rock le canzoni di denuncia e di protesta pescando da grandi successi del passato e si inaugura invece domani sabato 13 agosto il carnevale estivo di Fano la location è quella del lungomare Sassonia dove a partire dalle 19 nella zona dell'anfiteatro Rastat ci sarà la partenza del carnevale in sup a cura dell'associazione Mare Dentro tantissime anche le attività per bambini mentre all'interno del parcheggio della zona del mercato itico ci sarà l'occasione di vedere il carnevale che guarda al futuro musica street art e nuove tecnologie a cura di porto futuro l'attesa sfilata dei carri di seconda categoria è in programma alle 21 e 30 grazie a lasciate ogni speranza voi che tirate di Luca Vassilic l'amor perduto la perdizione di Matteo Angherà Fosforil e fatti non sarete a vivere come bruti di Mauro Chiappa e carnevale di Fanostori di Jox e domenica e domenica 14 agosto invece ricorre la tradizionale festa del Beato Sante un appuntamento religioso unito alla festa del voto che sarà ufficiato quest'anno dal nuovo arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci e che Rossini TV vi seguirà e vi trasmetterà in diretta a partire dalle 11 di mattina noi c'erriamo il santo celebrato i giorni della morte e della nascita uccellente secondo avvenimenti importanti anche alla festa del futuro pericordo un quanto più importante anche il 5% diciasi quando Francesco Maria De Manolo volendo conquistare i paesi e il tutto del piatto aveva deciso di distruggere il mondo di un paroccio perché si era spiegato da un'altra situazione e i poparoccesi che mi dava il rischio di loro che si sono rivolte a tirannusare facendo 8 o 10 centri che se fosse stato risparcato di un paroccio ogni anno i poparocci di acquisto sarebbero venuti a sciogli in questo punto di acquisto di acquisto Francesco Maria della Roma e c'è un po' avere che era molto elevato per gli altri stani che sa prima del punto adesparcino un po' ma e da allora quindi dal 15% si è spende un po' più e altri altri passati poi rispettiamo sani e sciogli e anche quest'anno 20 14 e a questo ci sarà questa grande selezione che sarà la volta che è usato e questo è tutto e concludiamo con lo sport perché si è appena conclusa questo pomeriggio nel comune di Pesero la presentazione della campagna abbonamenti alla Carpegna Prosciutto Basket Pesero stagione 2022-2023 vediamo è ancora lontana la prima partita di campionato della Serie A di Basket quella che al 9 ottobre vedrà la VL debuttare alla Vitre Frigo Arena però la passione VL batte forte e batte con il via alla campagna abbonamenti presentata oggi nella sala del consiglio comunale di Pesero alla presenza della società e anche di delegazioni di tifosi vediamo le novità cominciamo dalla parte grafica con Io VL che sarà il claim di questa stagione già dall'immagine battagliera di Coach Repegia e i suoi giocatori marchiati dai segni bianco-rossi che campeggeranno sugli abbonamenti sulla pelle di giocatori e allenatore così come sulle tessere degli abbonati andiamo a vedere quelli che sono i prezzi prezzi assolutamente per tutte le tasche si va dai 120 euro della curva K2 per poi salire ai 150 della curva K1 e K3 e poi le tribune quest'anno spezzettate in tre fasce 250 euro per gli spicchi N1 N7 L2 L8 350 euro per le tribune laterali 400 per la centralissima e poi i parterre per il club Tonucci 240 euro per la fanzone 240 600 euro il parterre tradizionale e infine le poltroncine VIP 1500 euro poi naturalmente ci sono tutte le fasce ridotte così come i biglietti che vanno dai 20 ai 60 euro dai 20 euro della curva ai 60 del parterre fino ai 100 della poltroncina VIP ci sono le promozioni promozioni family promozioni porta un amico e la fanzone naturalmente spazio al diritto di prelazione per gli abbonati diritto di precedenza che è per gli abbonati della stagione 2019-2020 l'ultima prima del covid e dunque la campagna di vendita inizierà per questa fascia con diritto di precedenza dal 29 agosto al 3 di settembre e poi la seconda settimana quella dal 5 al 10 settembre sarà riservata al diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e poi dal 10 settembre vendita libera aperta sicuramente fino al 9 ottobre nel match casalingo contro Venezia e poi aperta ancora per altro tempo da definire i punti vendita viva ticket pro di sport spazio conad per una vitrifigo arena che torna a piena capienza 7.000 posti meno il settore ospiti e questo è il punto di partenza importante sottolineato dal presidente Ario Costa sicuramente questa notizia è la notizia più bella ma non solo per noi o per tutti i nostri tifosi che vanno al palazzo ma perché significa che stiamo vincendo questa bruttissima battaglia contro il virus chiaramente noi confidiamo molto in questo ritrovato entusiasmo della scorsa stagione poterlo riprendere e ripartire anche in campagna abbonamenti con questo entusiasmo di fronte a una squadra che sta crescendo o meglio nascendo che dico che mi piace molto interessante e stimolante le scelte anche a livello di prezzi vanno incontro ai tifosi prezzi per tutte le tasche ha ricordato anche lei in conferenza stampa non esiste una curva in Italia con prezzi così bassi Sì questa è la realtà noi siamo sempre stati attenti a questo è chiaro che poi bisogna dare un valore un valore che sia giusto corretto però sempre con un occhio di riguardo al portafoglio dei nostri tifosi Si riparte dunque dall'entusiasmo che ha concluso la scorsa stagione in quell'entusiasmo è entrata anche la fanzone una assoluta novità della scorsa stagione una novità che quest'anno entra nell'abbonamento novità voluta da Alessandro Mengucci dal VL Ambassador Walter Magnifico è stata un'esperienza bellissima è stata la partenza di un progetto che vogliamo rendere sempre più interessante più solido il principio più importante è quello di coinvolgere i ragazzini giovani e giovanissimi invitandoli a vedere la partita a vivere dal vivo l'evento sportivo abbiamo visto che la risposta l'anno scorso è stata entusiasmante e quindi l'abbiamo riproposta e come ho detto facciamo l'esordio ufficiale nella campagna abbonamenti anche per la fanzone ecco quindi è una fanzone che è non dico limitata ma insomma circoscritta a una fascia di data fino ai 18 anni dai 0 ai 18 anni naturalmente i ragazzi i bambini più piccoli fino ai 14 anni possono essere accompagnati dai genitori quindi possono sottoscrivere l'abbonamento sia il genitore che il bambino dai 15 ai 18 anni in maniera autonoma c'è solo i ragazzi e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che è dedicata a candele sotto le stelle vi abbiamo dato un assaggio nel telegiornale di ieri vedrete tutto nello speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini che andrà in onda questa sera alle 21 e 20 candele sotto le stelle per quello che riguarda la notte di San Lorenzo a Pesaro e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini sempre e rigorosamente in diretta a partire dalle 7 e 20 l'appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali a cura per l'occasione del nostro Antonio Astuti e poi lettura e commento al Vangelo della domenica la prima edizione come sempre ogni venerdì alle 17 e 30 ma ci sono anche le repliche quelle di domani alle 10 e 30 e alle 16 e domenica alle 8 alle 11 con questo appuntamento a cura di Don Marco Di Giorgio Ancora candele ancora candele sotto le stelle altro speciale a 24 ore da quello che vi trasmetteremo stasera su Pesaro vi mostreremo domani sabato alle 21 e 20 anche candele sotto le stelle per quello che è stata la notte di San Lorenzo a Gabice Mare e poi ve l'abbiamo già anticipato nel nostro telegiornale domenica 14 agosto alle 11 di mattina una nostra esclusiva in diretta dal santuario del Beato Sante di Monbaroccio vi mostreremo la Santa Messa per la festa del Beato Sante e la festa del Voto celebrata dal nuovo Vescovo Monsignor Sandro Salvucci ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona serata un buon weekend e un buon Ferragosto in compagnia dei programmi di Rossini TV